ecco fra poco faranno il loro ingresso in campo qua al comunale di Casalbordino per il campionato provinciale categoria lievi under 17 Casalbordino Virtus Castelfrentano il Casalbordino giocherà con la divisa rosa nero calzettoni rossi mentre la Virtus Castelfrentano giocherà con la classica divisa giallorossa ovvero i nostri colori sociali gli stessi colori sociali del Casalbordino ci ha dato a noi come regolamento agli ospiti la facoltà di indossare la prima divisa e quindi scenderemo in campo con la classica giallorossa il direttore di gara e della sezione AIA di vasto ecco è andata a controllare la porta per vedere se non ci sono buchi tra la rete ecco l'ingresso in campo entrerà prima il direttore di gara e la Virtus Castelfrentano per il protocollo covid si è cambiato un po' di ingresso in campo non si entra tutti insieme ma ecco il Casalbordino che si si è cambiato un po' di schiera sull'altro lato Grazie mille